Ciao a tutti ragazzi e ragazze, volevo parlarvi oggi delle persone sui videogiochi Purtroppo persone, parlo sia di maschi e sia di femmine, uomini e donne Giocano a qualunque videogioco, in tutte le piattaforme di gioco Volevo parlare di questa cosa, dei videogiochi Allora, volevo parlare di questa cosa, dei videogiochi Perché ci sono purtroppo persone sui videogiochi che lo prendano realmente Cosa vuol dire che prendano un videogioco realmente? Cioè, che loro pensano realmente di essere all'interno del videogioco E si comportano in una maniera sbagliata Cioè, i giochi creano dipendenza Perciò io voglio dire alle persone, sia uomini che donne Voglio dire, se giocate a videogiochi, giocate con cautela Giocate non tanto, ma giocate in necessario Cioè, poco Perché sinceramente Io ho visto Ragazzi e ragazze che vengono nella mia live E dicano Te non sai giocare Te non sai giocare Oppure offendano Oppure minacciano Oppure mi minacciano di hackerarmi Fanno tutte le cose sbagliate Mi dicano un'infinità di cose sbagliate Io voglio dire una cosa Ma realmente prendete un gioco come vita reale? Non è giusta questa cosa È una cosa davvero sbagliata C'è tipo uno youtuber famoso Che conosco Da 400.000 K Lui il gioco l'ha preso realmente Perché ogni tanto mi viene live E mi offende E continuo a dirmi che ho la 104 E tante altre cose Ok? Io ho fatto un video dove dicevo di averla Ma non è vero L'ho fatto solamente per fare contenti haters Comunque Quello che A me fa ridere Che adesso Anche gli youtuber Conosciuti Gli youtuber famosi O i mini youtuber Sia maschi che femmine Perché ci sono youtuber maschi Youtuber femmine Eccetera Loro prendano il gioco come reale Cioè fanno quello Che Tipo loro nel gioco Vogliano sempre killare le altre persone Questa cosa è una cosa Altamente sbagliata Il gioco è fatto per divertirsi Non solamente per fare kill Ogni secondo Rip Oppure un'infinità di cose sbagliate Non è giusto Nel gioco Ci aiutiamo a vicenda Facciamo le attività Facciamo le gare Si fa tante cose nel gioco Purtroppo le community Di tutto il mondo Dei giochi E di tutte le piattaforme Sono diventate tossiche Tossiche Tossic Perché sono diventate tossiche le community Perché sono diventate tossiche le community Perché ci sono persone Che hanno preso il gioco Come vita reale E questa cosa Non è giusto Perché i giochi Creano dipendenza Io voglio dire Alle persone Che giocano A GTA O altri giochi Perché GTA È nella categoria Un po' violenta Poi ci sono Altri giochi Nella categoria Violenta Ci sono Altri giochi Che sono per bambini Ci sono giochi Che sono per Altre categorie Ci sono un'infinità Di categorie Per Qualsiasi Tipo Di gioco Sempre all'infinito E quello che io Voglio dire Che Se giocate A giochi Violenti Non è che dovete diventare Violenti Pure voi persone È un gioco Non è realistico È un Un gioco Virtuale È un gioco Finto Perché dovete fare Quello che Fai gioco Perché dovete andare Dietro A un gioco Finto C'è Io Tipo Voglio fare amicizia Con una persona Non posso fare amicizia Con quella persona Perché le persone Fanno finta Di essere Vostri amici E poi dopo Vi trovate la rip Sui social Vi trovate la rip Nicolivorno 1 ha perso Nicolivorno 1 di là Nicolivorno 1 di su Nicolivorno di su Perché vi comportate così C'è Lo sai Quante persone Sui giochi Hanno perso Vere amicizie Io conoscevo Un ragazzo Di Livorno Che si era amici Abbiamo discusso Per un videogioco Perché lui aveva preso Il videogioco Per cose serie Io invece Videogioco L'ho preso Per divertirmi C'è Purtroppo Questa cosa Dei videogiochi Qualsiasi Tipo di Videogiochi Di tutto il mondo La gente La prende Come realtà E Perdete amicizie O Siete fidanzati Perdete Fidanzati Cioè Siete Perfino Le persone Sposate Si lasciano Per colpa Di un videogioco Perché Purtroppo Il videogioco È una cosa Che crea Dipendenza E le persone Se non giocano Ok Se non giocano Le persone Succede Queste cose Purtroppo Se È così Si stanno rovinando Per un videogioco Si stanno rovinando Per i videogiochi Io Quel che voglio dire Giocate Il poco Necessario Cioè Quando è necessario Giocate Che non potete Non avete niente da fare Giocate Ma divertitevi Non giocate Perché Volete Diventare Più forti Giocate Per divertimento Non giocate Per litigare Perché la cosa Per giocare Per litigare È una cosa Sbagliata Purtroppo In questo mondo Ragazzi Ragazze Qualsiasi Cosa È diventato Sbagliato Il mondo Stesso È diventato Stato Sbagliato E spero Che un giorno Il mondo Sarà in pace E saremo Tutti tranquilli E felici E contenti Spero che un giorno Sarà così Comunque Mi raccomando Non prendete I videogiochi Per realtà Non prendete I giochi Per cose Reali Non prendete Niente Per cose Reali Le cose Reali Sono quando Si va a mangiare Fuori Una pizza Tutti insieme Si fa amicizia Con altre persone Ci si fidanza Questo È Reale Un videogioco Non potete andare A mangiare La pizza Realmente Perché è un videogioco Non è che se Fate Tipo GTRP Vi metto GTRP Non è che se Comprate una pizza Su un gioco È una pizza Reale Non è che Mangiate Reale Mangiate Niente Perché non è Non è realistico È una cosa Virtuale Sono cose Virtuali E purtroppo Dovete Sapere una cosa Dovete Capire Ciò che è Virtuale E ciò Che è Reale Dovete Iniziare a Capire Perché io Vedo molte Generazioni Molte persone Che In questa Generazione Stanno Iniziando A fare Cose Sbagliate Perché Giocano A qualsiasi Gioco E questa Cosa è una cosa Sbagliata Dovete Imparare Cos'è Reale E cos'è Virtuale Questo volevo Dirvi Comunque Purtroppo Le community Sono diventate Tostiche Perché Non è che Le community Sono tossiche Non è che I giochi Sono tossiche Allora I giochi Non sono Tossici Le community Non sono Tossiche Sono le Persone Che sono Diventate Tossiche Sia Maschi Che Femmine Sono diventate Tossiche Le persone Perché Vogliano Solo Cercare Di Letigare Con gli Altri Per Corpa Dei Giochi Ma Non è la Propria Corpa Dei Giochi È che Le persone Prendano Una cosa Virtuale Per Una Cosa Reale E questa Cosa È una Cosa Sbagliata Ve l'ho Già Detto Comunque Io ragazzi Ho fatto Molti Video A riguardo Su Il mio Canale Che Se andate A vedere Ogni sera Quando vado A giocare Devo fare Guerre Contro Le persone Perché Le persone Mi attaccano Nei giochi Non mi vogliono Fare giocare Oppure Mi Dossano Oppure Mi minacciano Di Doss E poi Viene Fatto Che ieri Ho fatto pure Scree shot A riguardo A questa Cosa Qui Dei Doss Perché Mi hanno Dossato Tempo Fa E Ieri Sera Mi hanno Minacciato Di Dossarmi E Mi Minacciano H24 Io Faccio Tutti Gli Scree shot Che Un giorno Quando sarò Intervistato Ne parlerò Di Qualsiasi Cosa Di Tutto Parlerò Quando sarò Intervistato E Comunque Ragazzi Mi Raccomando Comportatevi A modo E Ricordatevi La Realtà È La Realtà La Virtualità È La Virtualità Ricordate Questo Non è che La Realtà È Virtualità Non è Tutto Insieme La Realtà È La Realtà E La Virtualità È La Virtualità Non Prendete Le Le Di D D Do Dove Ho Parlato Di Qualsiasi Cosa Il Mio Canale È Basato Su Tutte Le Cose Di Tutto Il Mondo Mi Raccomando Ragazzi Andate A Vedere Nel Mi Canale Ho Fatto Video Degli Hacker Video De Doss Video De Social Video Di Qualsiasi Genere Andate Nel Mio Canale Guardate Mettete Mi Piace Condividete Video Potete Scaricare Tutti I Mie Video E Pubblicarli Ovunque Sempre All'Infinito Comunque Vi Do Un Saluto Spero Che Il Mio Video Vi Abbia Fatto Capire Tante Cose E Comunque Ciao A Tutti Da Nicoli Buono Ci Vediamo La Prostima Video O La Prossima Video Tante